baschettari impenitenti o semplici nuovi appassionati bentornati a in the paint puntata del lunedì una puntata che ci porta ai primi raduni in serie a si sono radunati già tra le altre sassari che disputerà il preliminare di basketball champions league un preliminare attenzione che vede uno scoglio davvero davvero ostico si tratta del mora bancandor la squadra dell'asebe al secondo anno di massimo campionato spagnolo dopo la promozione del 2022 2023 e che ha annunciato negli scorsi giorni due firme di altissimo livello si tratta di shannon evans ex valencia ex betis e di kyle curic prodotto l studiante salvato di studiante da giovane e poi passato per gran canaria e per il barcellona e regge da una stagione allo zenith san pietroburgo è una squadra davvero ostica che la formazione di coach neil markovic potrebbe incontrare solamente in caso di finale una sassari che quindi è già al lavoro ma sono a lavoro tante squadre al lavoro scafati con tutti i giocatori finalmente aggregati al lavoro anche napoli alla quale si è aggregata si è aggregato oggi anche l'ultimo arrivato che è in pangos che quindi si è aggiunge alla truppa di coach igor milicic visite mediche già effettuate al cavallo di ferragosto non è napoli che quindi comincia il suo cammino sulla via che porta innanzitutto alle semifinali di supercoppa italiana dove affronterà la virtus sega freddo bologna all'unipol arena di casa lecchio di rino il 21 settembre proprio la virtus sega freddo bologna affronta un momento di riorganizzazione anche societaria tra queste riorganizzazioni rientra anche il cambio di management o meglio la conferma del management perché dovrebbe essere rinnovato il contratto di baraldi e di ronci intanto però sono stati annunciati i numeri di maglia con i nuovi che useranno i seguenti numeri innanzitutto il numero 8 per will tyburn colpo stellare della dell'estate virtustina 9 per visconti 24 per gragiudis 30 per morgan 35 per diuffo 45 per achele 59 per tucker tolto will tyburn tutti portano i loro numeri dalle altre squadre risconti aveva il 9 a pesaro per dire gragiudis aveva il 24 a trento morgan il 30 con il london lions 35 di diuff storico sia a reggio emilia sia a breogan 45 per achele già avuto brescia il 59 di tucker sia in australia che nello scorso anno a venezia è una serie a che quindi sta prendendo forma nelle prossime puntate cominceremo a fare anche noi il nostro power ranking andiamo però in europa dove a sorpresa il real madrid perde un pezzo fondamentale delle proprie rotazioni si tratta di gershon jacuzelè che secondo quanto in forma adrian buonarovski avrebbe accettato l'offerta dei philadelphia 76ers e avrebbe trovato un accordo con il real madrid per pagare il buyout di due milioni e mezzo in favore della formazione madrilena attenzione invece al panatinaikos che avrebbe ad un passo l'accordo con il turco omer yurseven lo scorso anno in nba e potrebbe essere il nuovo giocatore di coach ataman torna a lavoro anche l'olimpia che però sul mercato resta attiva per cercare un ultimo tassello non si tratterà però di un playmaker bensì di una guardia a quanto pare perché il nome di skylar mace torna in auge dopo settimane di silenzio l'accordo tra le parti però secondo quanto riportano varie state state sarebbe in in arrivo però nel mese di settembre quindi servirebbe attendere un paio di settimane il nome caldo sul mercato di euroliga è però quello di davis bersans sul quale c'era il partizan belgrado ma con l'uscita di jacuzere potrebbe entrare in corsa il real madrid uno jacuzere che quindi come detto andrà a filadelfia e si ritroverà in nba con un altro protagonista della famosa rissa tra partizan e real quel dante exum che oggi è a dallas attenzione poi invece al partizan il presidente mialovic ha preannunciato sorprese per la presentazione della squadra domani infatti oggi dovrebbe annunciare una serie di rinforzi da mettere a disposizione il coach velico obradovich andiamo invece a parlare della dell'alba bernino che ha annunciato il gruppo per la prossima stagione un gruppo nel quale ci saranno sicuramente i due italiani matteo spagnolo e gabriere procida andiamo con i nomi martin ermanson ziga samar will mcdowell white matteo spagnolo ovviamente con nella seconda stagione di eurolega jonas matti secco matt thomas sul quale c'era stato l'interesse di trapani gabriere procida maltedello elias rapieck luiz solinde tim schneider justin bin traivion williams in arrivo da ulm califa kumage centro di 2 metri e 21 e gli anni wetzel andiamo a parlare invece di nba perché sappiamo già quale sarà partita nell'opening night sarà il 22 ottobre la sfida tra boston celtics e new york knicks con la consegna degli anelli ai biancoverdi sfida che si pronuncia già di grande interesse per la corsa ad est dove i knicks rinforzati siccome michael bridges sono in questo momento tra le più accreditate a dare fastidio agli attuali campioni nba che cercheranno di rivalidare il proprio titolo cosa che non succede da ben sette anni dal 2018 erano stati i golden state warriors è tutto per noi vi ringraziamo di averci seguito vediamo appuntamento alla prossima puntata sempre qui sempre sul park in the paint ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.